...la terrazza del bar contro Tendenza Caffè che aprirà in realtà domani. ...la fronte di questa grafica c'è la riparruzione di una fusta locale. Perché non è una grafica scaricata da internet, è stata disegnata a mano e poi sviluppata su Illustrator. Quindi ha fatto un bel lavoro ragazzo e è stata creata proprio da Zio.